Ciao, sono Ottavio Lombardi e in questo video ti parlerò di due cose che non devi assolutamente fare, sia che fare con una persona che soffre di balbuzie. Prima cosa, non devi mai anticipare quello che sta per dire. Se per esempio la persona ti vuole dire Vorrei un... Vorrei un... Vorrei un... Non devi dirgli vorresti un caffè, non devi assolutamente dirglielo. E perché? Perché in pratica vai semplicemente a farlo focalizzare sulla problematica. Vai a farlo focalizzare sull'azione che sta sbagliando. E giustamente questo fa aumentare il livello di ansia e il livello di stress. E giustamente non fai altro che fargli un danno perché non lo stai aiutando, ma semplicemente vai a farlo stressare ancora di più. Seconda cosa importantissima che non devi assolutamente fare. Non devi dargli nessun tipo di consiglio, per esempio. Non devi mai dirgli vai piano, vai più veloce. Oppure non bloccarti, non tartagliare. Perché? Sempre per lo stesso motivo. Non devi farlo perché vai sempre a fargli aumentare l'ansia e lo stress. E quindi non stai facendo assolutamente la differenza per lui in quel momento. Cosa potresti fare invece? Potresti ascoltarlo a livello empatico. Che significa? Non è che devi far finta di ascoltarlo. Devi veramente fargli comprendere che tu sei lì per ascoltarlo e che vuoi veramente che lui porti fuori il mondo che ha dentro. Quindi cosa potresti fare? Potresti guardarlo direttamente negli occhi perché comunque il canale visivo è un canale molto importante che gli fa comprendere che tu sei veramente lì per ascoltarlo. Mi rendo conto che magari se stai guardando questo video non è che sei una persona che soffre di balbuzie ma magari sei un genitore, un insegnante o magari sei una persona che semplicemente tiene a un amico che in quel momento sta soffrendo di balbuzie. Quindi mi raccomando, applica questo consiglio che ti ho dato perché può fare un'enorme differenza. Puoi veramente fargli comprendere che tu sei lì pronto ad ascoltarlo.